Per quattro anni ha lottato contro un neuroblastoma, il sorriso del piccolo Riccardo Barbera di Padova si è spento a soli otto anni, venerdì all'ospice pediatrico di Padova. Al piccolo, nell'autunno del 2020, era stato diagnosticato un neuroblastoma partito da una ghiandola surrenale. Nonostante la chemio, le operazioni, la lunga adegenza ospedaliera a Padova non ha mai smesso di sorridere alla vita, ha scritto il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio alla famiglia di Riccardo. Se n'è andato venerdì, dopo aver atteso, come aveva promesso, il compleanno del papà e la cresima della sorella maggiore, dicendo alla sua mamma, non ti preoccupare che adesso vado in paradiso e poi chiedo alla Madonnina di ritornare. Tanti messaggi di vicinanza alla famiglia in questi mesi. I funerali si terranno martedì 4 giugno alle 10 al Duomo di Padova. I genitori chiedono di non acquistare fiori ma di donare denaro all'associazione Braccio di Ferro, che si occupa di assistere i bambini all'interno dell'ospice pediatrico di Padova. Grazie. Grazie.